ciao ragazzi sono lo stilista nikita il mio primo giorno di lavoro infatti potrete vedere quanto sono stilistico aspetta che mi mettono ah ah mi si è incastrato lo sticino penso che lo sistemo sono un po agitato e devono arrivare clienti abbastanza di moda poi sto sgabello guardate a me basta fare così si rom e cado se faccio la figura così davanti ai giornali e ci aprò vicino la frusta busta è la star più importante del mondo la frusta busta ciao io sono frusta busta e voglio diventare la più fashion la migliore e la più bella di tutte anche se lo sono di già però voglio migliorarmi ancora di più io sono una star una fashion blogger faccio video e porto moda perché io sono la moda oggi voglio provare questo nuovo stilista che è molto famoso e spero che mi rendi ancora più fan volosa cosa dovrebbe arrivare induriamo le calci è l'acca la speciale puzza adesso farò brutta fuga calma calma salve salve io sono a fusta busta stai ballando che sono un po agitato ma lei da quant'è che lavora io lavoro qua da 50 anni wow deve essere molto bravo e con chi ha lavorato ho lavorato con rovazzi michael jackson sia mamma madonna wow deve essere davvero divertente lavorare con queste celebrità beh sappi che io sono la celebrità più fantastica del mondo quindi dovrei fare ancora del tuo meglio ora adesso proveremo questa bella bella questa è una maschera composta da alche miracolose e anche delle polveri bellissime ah ok non toccare vediamo come si è diventata vuole un sveglietto si si voglio vedermi voglio vedermi vai aia aia io ti faccio a pezzi non so cosa sia successo mi si è commesso un po' di polvere gialla guarda comunque non è malissimo va di moda perchè tra un po' è halloween e sei talmente bella in senso ironico che fai anche bene per halloween ma sei unica cosa ho combinato però forse non sono quasi tanto male e chissà quante visualizzazioni farò con il mio bellissimo occhio e il mio blog si mi piace ma secondo me sei unica ce ne sono tanti di belli ma unica come te nessuno c'è forse hai ragione però adesso voglio cambiare un pochino il mio stile allora ti faccio provare un po' di vestiti per esempio questo no il mio occhio grande dice di no ok allora questa pronta frusta busta no ah le mie calze frusta busta è benissimo grazie lo so sono la migliore ho fatto un bel lavoro eh sono stato bravo si dopo tutto no va bene adesso devo andare devo fare un tour ciao ci vediamo alla prossima ciao